Siamo pronti per sfidare la Juventus? Ebbene sì, oggi siamo qua su PES 2021 con il nostro Monza contro la Juventus, sfida complicata, molto complicata dovremmo gestirla al meglio Allora, sto guardando un attimo chi mettere Anastasio oggi è più in forma e per il resto... Beh, Paris è subito in formissima comunque proprio neanche tempo di iniziare che già sta messo malissimo Bene, bene Allora Speriamo bene Speriamo bene Cioè io ho tanta tanta paura Sarà una tragedia Sarà una tragedia ma dobbiamo essere positivi Fare tanto tiki-taka come dice Roberto e cercare di mantenere anche solamente un pareggio Che già il pareggio sarebbe tanta roba Sinceramente parlando Dai, ragazzi Zanellato Aramu Ciuria Maric 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 No, peccato Peccato La partenza è ottima Io non dico niente Io non dico niente Aramu Zanellato Non ci arriva C'è Anastasio Anastasio Prova È fallo È fallo Ma ancora hai la palla Eh Come per la Juventus Perché Dov'è il fallo Vabbè Un po' c'è In effetti Il calcio è anche arrivato Ma Ma va bene Cos'è che sia Su dai Un calcettino Può capitare a chiunque Paletta Conto CR7 Che sfida Manco Vabbè Siamo sta Abbastanza pena Come sfida In effetti Aramu Sampi Dai ragazzi Fossa Zanellato Pranastasio Mi tacco Addirittura No raga Torna Male 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 Menedadeschi Paletta Fossati Aramu Zanellato Maric Oh Aramu Aramu Contro Rabiot Aramu No Paracesni Paracesni Aramu c'era Stiamo giocando benissimo La Juve sta Clamurosamente Giocando male Aramu Dai Maric No C'è Cesni Che para Eh Sta Juve È forte È forte Vabbè Anastasio Anastasio Bravo Anastasio Sì però Vacci Anastasio Paletta Con calma Che Stanno andando Basta che tira in porta Deja Gol Ragazzi Paletta Bravissimo Maric Maric Ciuria 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 No No Ma porca miseria Porca Ma di quanto è uscita Vabbè Alessandro Solita pena Ciuria Mamma mia Di poco Di poco Se non lo sapeste Io sono Juventino E odio tantissimo Alessandro Soprattutto negli ultimi anni È inguardabile Qua si dimostra No raga Vabbè Niente Niente Lo sapevamo Lo sapevamo Bastava un tiro di CR7 Ed era gol Insomma Bastava poco Eh questa è la differenza Tra noi e loro Loro basta un tiro in porta E fanno gol Noi Non riusciamo a far gol Perché siamo Più scarsi E meno E meno cinici Davanti alla porta Ma ragazzi No Maric Non dobbiamo Sottovalutarci Perché stiamo giocando Molto bene oggi E sono fiero Di questa squadra Al momento Sono molto fiero Primi 20 minuti Da Oscar A volte la sfiga Però Eh però basta Ragazzi Basta Per favore Allora Caccio d'angolo Per la Juve C'era 7 Mamma mia Mamma mia Niente da fare Ha perso una buona occasione Rushford Alla Juve Vabbè Non che mi convinca Allora Sampi 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 Mamma mia Che rischio Che rischio Soffriamo un po' In difesa Con calma De Vecchi Per Sampi Dobbiamo calmarci Dobbiamo calmarci Aramu Ciuria Maric bravo Dai Ciuria Maric No Non l'ha presa Se la pigliava quella Poteva essere Un bel tiro Ciuria Hai visto Vabbè Troppo sul portiere Però Troppo Zanellato Anastasio Controquadrado Ah No Bernardeschi No Paletta Attenti Ragazzi Au Sto Rushford Una bestia Vabbè Comunque Shabot Per Anastasio Anastasio Zanellato Erroraccio Di Zanellato Bravo Anastasio Dai Ciuria Fossa Zanellato Anastasio Anastasio Vargas Anastasio Tentacross To the Dict Fossati Aramu Ciuria Niente Fuori Ci manca Quei giocatori Che sotto porta Siano Più forti Dei loro D'altronde Ci manca Questa cosa Qui Però Non stiamo Giocando Affatto male Ripeto Cioè Io Sono Molto Contento Anche Perché Più di Così Che vuoi Fa La Juve Mica Dai Maric 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 1-1 1-1 Maric 1-1 Maric Vabbè Ok La Juve Però Noi comunque Stiamo giocando meglio Stiamo giocando meglio Vogliamo dirlo Fossa Il fosso Delict Poi vabbè Maric Spacca la porta Spacca la porta Unica certezza Di quest'anno In attacco Maric Al momento Mamma mia Che partita Che partita Ragazzi Che partita Che stiamo facendo Non lì Non lì Non lì Non lì Bravo Paletta Su CR7 Paletta Su CR7 Vabbè Comunque La squadra Sta rendendo Un gran bene Io Non cambierei Nessuno Al momento E Andiamo così Mi sta piacendo La partita Mi sta molto piacendo Dunque la difficoltà Va bene Perché I coi Facciamo Segniamo Abbastanza realistico Anzi Molto realistico Rispetto a Prima che 3-0 con la Roma Era un po' troppo Dai Sembrava un po' Falsata la cosa Cioè Davvero Rischiamo di vincere Il campionato Dal primo anno Dopo la Serie B Non si poteva far Anche perché Non mi diverto Non c'è Non c'è sfida Che senso avrebbe De Vecchi Chabot Per Anastasio Anastasio Vargas Anastasio Ancora lui Dai Non era quella L'idea Comunque L'idea era Che lui partisse Maric Sannellato No Attenti C'è il reset Che parte Attenti C'è il reset Che parte Eh ma c'è Paletta E dei Vecchi Che guardano bene Guardano molto bene C'è il reset Chabot No Maric No No De Vecchi De Vecchi De Vecchi Su Rashford Paletta Fuori Fuori Sta palla Fuori Niente Ancora lì Mamma mia Che rischio Zannellato Lotta Per la palla Maric Di tacco Ciuria Contro Alessandro Dai Che una pippa Alessandro Su Bravo Zannellato Fossa Ciuria No Bravo Che stende Il giocatore Bravissimi Ragazzi Maric E fallo E fallo Ok Bene 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 Allora 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 Non c'è il cambio Anastasio È cotto Mettiamo Roserio Che spingiamo un po' di più sulla fascia E Maric Eh però Perizza Non sta messo bene Non sta messo affatto bene Vargas Che non ha fatto granché Mettiamo Moreno E Basta Anzi Cano Per Aramu Dai Ragazzi Cano Sano Non so come si chiami Come si pronunci Il suo nome Però va bene Allora Fossa L'hai visto Che precisione Deve Fossa Roserio Moreno Appena entrato Per Maric Non ci arriva Ancora Fossa Ancora Fossa Bravi 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 No Sano No Niente Rabbio c'è Che intervento Bravi Fossa Oh Fossa Niente Fossa Partimi Partimi Fossa E vabbè Sì Buonanotte Secchio Ma chi è questo Vabbè Che c'è R7 Ok Però Che gol ha fatto Ma dai Da centrocampo Quasi Non ci credo Non ci credo Roserio stava per entrare Cioè Roserio ci ha provato Io Vabbè Che gol ha fatto questo Che gol ha fatto questo Beh vabbè Se hanno Se hanno C'è Le sette Che fa Le cose De genere Però io Non posso fare I miracoli Purtroppo Ma ragazzi Non è ancora finita Non è ancora finita Non è ancora 20 minuti Per recuperare Sto partita Maric 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 Su Delict Maric Sta facendo piangere Delict Oggi E non sto scherzando Veramente Questo dice tutto Mamma mia Che controllo Di Maric Che fisico Vuka Scesni Sul suo palo E addio mondo Bravissimo Bravissimo Oh comunque Alla Juve Devo dire Che la squadra Sta girando bene Paletta Paletta De vecchie Tua Crediamoci Ragazzi Crediamoci Comunque Molto radistico Sto gioco Difesa Da Juve Fa pietà Maric Fallo 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 Dai Potrebbe essere interessante Potrebbe essere assai Interessante Pensate che stavo Per cavare Maric Pensate Allora Cano Cano No Troppo Centrale Troppo Poi era buona Era molto buona Chabot Conto CR7 Roserio Ragazzi Zanellato No Che brutto passaggio Zanellato Che brutto No Paletta Deve andarci più deciso Lì E basta CR7 Basta Su C'è Veramente Oh Muoi troppo Muoi troppo Cascio d'angolo Cebot Bravo Cebot Moreno È veloce È fresco Moreno Moreno Oh Non può essere più lento di Ramsey Su Lo conosco Ramsey Non è così veloce Non è così veloce Ramsey Sta buffonata Anzi molto lento in realtà Ramsey Molto tecnico come giocatore Più che veloce Moreno è una scheggia Eh Non può essere più veloce Su Maric Ciuria Maric No Il colpaccio Vicino al colpaccio Ragazzi Vicino al colpaccio Devo Maric Vabbè Ciuria Che inserimento Maric Passaggio preciso Ma La sbaglia Shesny Mostruoso Vabbè Cercherà di metterla in mezzo Allora Sano Moreno Di testa Vabbè Nostra Nostra Sampi Fossa Zanellato Moreno Zanellato Entra No Maric Maric No Mortacci Vostra No No Ultima azione Fossa Maric Maric Niente Zanellato Vai vai Sping E tu E tu Ciuria No Così No Così Sto passaggio No Così Vabbè Ragazzi 2 a 2 Dopetta Maric Dopetta CR7 Oh Una sfida Una sfida Che abbiamo meritato Una sfida Che abbiamo meritato Ragazzi Vogliamo dirlo Un 2 a 2 Buttato via Veramente Potevamo fare molto Di più Stranamente Ragazzi Pareggio Meraviglioso Per come era Messi contro la Juve Pareggio Meraviglioso Maric Come sempre Strepitoso Sotto ogni punto di vista Io sono quasi emozionato Allora 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 Daniel Ha rifiutato No Chong Attenzione C'è un compromesso Texera Prestito Ancora Sono fissato Io sono Texera Ho fissati Allora Chong Oh Io Chong Quasi quasi Meglio Meglio Piglio Chong Questo è forte Ragazzi Questo è veramente forte Vi do al sicuro È veramente Veramente forte Allora Texera Quanto sta adesso? Ancora basso Tex Ancora basso Mi dispiace Allora La prossima volta Avremo Cagliari Monza Partita Oi Non facile Non facile Più facile Sicuramente Di quella Con la Juve Per carità Più facile Però Nessuna partita È facile Alla fine Per noi Che siamo Neopromosse Comunque Ragazzi Direi che è tutto Per il momento Clamoroso Episodio Noi ci Becchiamo Al prossimo Episodio Ciao ragazzi